Per il fisco conduceva una vita ai limiti della povertà, dichiarando redditi per circa 7.000 euro l'anno. In realtà aveva accumulato un patrimonio a 6 zeri. È quello che hanno sequestrato questa mattina i carabinieri di Andria al 49enne Francesco Orecchia e i suoi familiari a seguito di una lunga attività info-investigativa cominciata nel mese di gennaio e condotta dai militari del reparto operativo di Bari. Indagini che hanno accertato l'esistenza di un patrimonio immobiliare frutto del riempiego di risorse finanziarie derivanti dalle attività illecite gestite dall'uomo, attualmente sorvegliato speciale, tra gli anni 80 e 2000. Orecchia, riconosciuto colpevole per numerosi reati commessi nella provincia di Barletta-Andreatrani, come furti in abitazione di autovetture, ricettazione e possesso di arnesi da scasso, ha provveduto nel tempo a ripulire i guadagni illeciti, investendoli anche attraverso i suoi familiari, in un unico complesso immobiliare costituito da tre diverse unità abitative. Gli accertamenti finanziari condotti nei confronti del 49enne hanno fatto emergere la sua pericolosità sociale e soprattutto un tenore di vita ampiamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati. Così è scattato il provvedimento da parte della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Trani. Il sequestro riguarda due appartamenti, un locale commerciale, ciascuno della superficie di circa 200 metri quadrati, e ben sei conti correnti bancari. Valore complessivo, oltre un milione di euro. Grazie.